5.000 lavoratori precari del comparto marittimo a cui l'Inps in campagna ha negato il diritto all'assistenza sanitaria e le indennità derivanti dallo stato di malattia. L'80% di questi lavoratori risiede nella provincia di Napoli. Denuncia l'UGL Attività Marittime che questa mattina ha organizzato un presidio di protesta davanti alla sede della prefettura. In piazza del plebiscito una delegazione con circa 50 lavoratori rappresentati dal responsabile nazionale della UGL Attività Marittime, Almerico Romano, ha chiesto al prefetto di fare da tramite con il governo per far garantire come previsto dalla legge il diritto all'assistenza per i precari del comparto. Noi chiediamo al governo il rispetto delle leggi. Esistono delle leggi nel merito che convogliano i lavoratori del mare verso un servizio sanitario specifico di settore. Invece nel corso del tempo tramite un protocollo che non ci nascondiamo a definire non legale praticamente convoglia parti di questi lavoratori marittimi verso un servizio meno specifico che il servizio sanitario nazionale. Quindi questo ha portato poi alla ribellione da parte dei medici di famiglia ai quali si vedono arrivare questi lavoratori addosso senza che abbiano un riconoscimento economico e quindi si rifiutano poi di emettere le certificazioni.